I bambini si possono vivisezionare, congelare e uccidere, ma le aragoste no. I figli si possono uccidere prima della nascita per mancanza di nutrimento. Ru 486, o anche smembrati pezzo a pezzo, aborto chirurgico, ma le aragoste, poverine. Virgola. Non si possono bollire e se vengono commerciate. Devono viaggiare in acqua salata, a pena di multa, anch'essa salata. Virgola. I bambini si possono uccidere prima della nascita con l'aborto. Spesso in modo crudele, smembrati pezzo a pezzo. Con l'aborto in pillole. Ru 486, i bambini muoiono per mancanza di nutrimento nel seno materno. I bambini allo stato embrionale si possono montare e smontare. Congelare e scongelare i vivisezionare, ma le aragoste no. Non si possono bollire. E se vengono commerciate, devono viaggiare in acqua salata a pena di multa, anch'essa salata. Lo racconta Wesley Lunga. Smith sul suo blog Human Exceptionalism. Accade in Svizzera. Che ha seguito la Nuova Zelanda e alcuni altri paesi nel mettere fuori legge le aragoste in. Bella vista. Il motivo? Le povere aragoste possono provare dolore. Quando vengono gettate vive nell'acqua bollente. Anche se i bravi crostacei non hanno un cervello che gli consente di elaborare gli stimoli. La Svizzera a tempo fa ha modificato la propria costituzione per riconoscere la dignità individuale. Delle piante. Non degli ecosistemi. Dignità individuale delle piante. Un comitato di bioetica. Incaricato di spiegare le ragioni della cosa. Ha dichiarato che poiché le piante condividono con noi umani dei tratti biochimici a livello. Cellulare è immorale. Decapitare un fiore di campo. Un cantone della Svizzera ha istituito un avvocato per rappresentare gli animali in giudizio. Uno di questi avvocati ha citato in giudizio un pescatore per conto di un suo cliente che è. Diventato cena. Perché l'uomo aveva impiegato troppo tempo a pescare il pesce. Il paese elvetico ha anche dichiarato illegale scaricare un pesce rosso vivo nel WC. Questa grande sensibilità per il dolore degli esseri viventi è ammirevole. Il punto è che però questa grande preoccupazione non esiste quando si tratta di proteggere la vita. Degli esseri umani. Dei bambini che i medici chiamano fetti che possono essere abortiti. Dei bambini che i biologi chiamano embrioni che possono essere manipolati e selezionati e scartati ecce. Delle persone. Malate. Disabili o anziane o stanche che possono farsi suicidare. Basta che paghino senza troppe domande. La Corte Suprema Svizzera ha dichiarato che il suicidio assistito per i malati di mente. Sono emblematici e per l'autodeterminazione i malati di mente è un diritto costituzionale. Certo che le aragoste quando le butti in pentola fanno davvero pena.